Ciao ragazzi, oggi prepariamo un salto di pinappola il salto di pinappola, naturalmente bisogna una pinappola, io utilizzo la pinappola perché sono in Thailand, quindi ho la migliore pinappola che puoi trovare, se non puoi usare la pinappola nella canta, la pinappola, spero che il mio inglese è il nome giusto, quindi bisogna una pinappola, 250 ml di maionese, o mayo, up to you, what you want to call, il mio uno è homemade, trovi la ricetta sul canale, lo puoi usare, 500 grammi di pinappola e 180 grammi di oliva senza il salto, naturalmente bisogna cuore il pinappola, quindi ho già messo una pinappola con acqua, un po' di salto, un po' di pinappola, un po' di pinappola, un po' di pinappola, sempre gli ingredienti, quindi in questo modo sei sicuro che gli ingredienti sono corretti. Ora mettiamo il po' di pinappola nella pinappola, cuoco per 30 minuti, durante questo tempo possiamo cuore la pinappola, se non, se usano la pinappola in canta, dovremmo la pinappola in canta, dovremmo lo scopo in piccoli, Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.